Sono Anna Suvorova, lavoro presso una società che si chiama Mesa Bicci e Touch Power System, la breccia italiana. Mi occupo della contabilità italiana della società e del consolidamento dei dati italiani verso il gruppo. Sono qui per un corso di principi contabili internazionali e della riportistica internazionale. Diciamo che questo corso è molto interessante per me professionalmente parlando, in quanto è una nuova opportunità e una nuova esperienza lavorativa.